Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Questa sera, in occasione della manifestazione tra ville e giardini, siamo a Rovigo con Johnny Kalsi, leader della Doll Foundation e musicista conosciuto in tutto il mondo per aver fatto apprezzare al grande pubblico la musica indiana. Con la Doll Foundation collaborate con artisti da tutto il mondo. Come fate ad unire stili così diversi dal vostro ed arrangiare tutto insieme? Sì, è molto difficile, dobbiamo orchestrare tutto ciò che facciamo, dobbiamo avere alcuni vocalisti e strumenti su un disco hard, perché se avessi portato a tutti che lavoravano sulle nostre album, ci sarebbero magari 60 persone sulla stage, quindi non facciamo questo. E tutti i strumenti live che vedete sulla stage, non sono sulla traccia di backing, quindi facciamo a giocare con gli ragazzi in questo studio. Ormai da parecchi anni lavorate con Peter Gabriel e la WOMAD, World of Music, Arts and Dance. Come è nata questa collaborazione? La collaborazione è iniziata da molti anni fa e si è iniziata come un progetto di scuola, come insegnare ai bambini come spiegare la dolla, quasi come per rivolgere l'instrumento. Stavamo facendo un workshop e siamo invitati da WOMAD per collaborare e fare qualcosa con alcuni artisti africani, i drummers di Burundi e altri artisti di diverse culture. e si è iniziata. E poi quando siamo arrivati alla grande stage, Peter Gabriel, ci ha visto e invitato a noi per le ricordazioni, per il suo film, ha fatto alcuni film, e per il suo suo album. E questo è stato un grande honore. Ocassionale abbiamo ottenuto piccoli scendenti, come documentari, per fare musica. Ocassionale questo succede. Quando crescivo, voglio essere come Peter Gabriel. Proprio Peter Gabriel ti ha nominato Ambassador of Love. Cosa significa per te? Grazie, Peter. Grazie. Grazie, Peter. E questo è il label che Peter mi ha dato. E credo che è venuto da quando abbiamo fatto la hostione del Live Earth, Live 8, che abbiamo fatto nel Progetto Eden. E stavamo introdurando tutti gli acti sul stage. e credo che ha visto quanto tanto amore ho avuto per tutti gli altri musicisti, per i miei musicisti. Quindi mi ha deciso di nominare l'ambassista di amore. E credo che è stata la forma in cui ho chiesto Angelina Jolie. Talmente. Talmente in questo modo. Ha visto... Ah, certo. Avete avuto la possibilità di suonare in tutto il mondo, e stasera siete qui a Rovigo. Cosa ti aspetti da questa serata? E' un evento fantastico. Non sono troppo sicuro del delay, dell'echo di questo edificio. Ma faremo il nostro meglio per fare ciò che noi facciamo, e arrivare a tutti e danciare. Ho spero che tutti abbassino i suoi danciare, perché i suoi necessitano. E i suoi piedi di amore. Oggi. Oggi la Doll Foundation è una realtà presente in tutto il mondo. Fin dove si può allargare questo progetto? E cosa ci sarà nel vostro futuro? Per il futuro... Crikey! Voglio scoprire un film. Questo sarebbe fantastico. Abbiamo fatto molti film Hollywood, ma solo abbiamo avuto scena di 30 secondi, una scena di un minuto, solo piccole scene in un film. Ma sarebbe bello scoprire un film. con tutti i suoi drum. Abbiamo alcuni dei giocatori che ho chiamato amici. David Arnold, che ha lavorato con tutti i filmi di James Bond. È un mio amico amore. E Hans Zimmer, è un altro ragazzo. È un grande fan. Mi piace lavorare con lui. E ci sono altri altri. Martin Scorsese, è un direttore e produttore. è un grande fan. È un grande fan. È un grande fan. È un grande fan. E Ang Lee è un altro che abbiamo lavorato con lui. E' stato incredibile. Quando abbiamo fatto l'Incredibile Hulk. E' stato molto bello. Michael Danner ha fatto molti filmi. di Kama Sutra. È uno delle stagioni. E' stato molto bello. E' stato un grande fan. E' stato un grande fan. a score a movie for the future I think that would be fantastic to do something like that a big Hollywood